L'anno prima. Doc. È grave. Lui è Doc. Dottoressa Giordana, la diagnosi è chiara. Lei è innamorata di me. E questo l'ha scoperto attraverso l'esame delle urine della signora Frascati. Ma è bene, no? Lei è un vero illuminare. Quindi lui è protagonista. Sto cercando Doc, Doc. Chi è? È lui. Lenny ha rovinato la vita. Aveva detto una semplice circoncisione. E invece... Scusa, ma ha sparato? Il cazzo l'ha colpito! Cazzo, ho detto cazzo. Siamo su Rai 1. Siamo su Rai 1, però. E che cazzo, però? Piancala di dire cazzo. Ecco, appunto. Vabbè, ma il re protagonista glielo hanno sparato subito. Aspetta, l'ho operato. Ma forse si salva. Ora togliamo le bende, ok? Dimmi se ti faccio male. Ma scusa, ma è quello di prima? Cos'è successo? Ti ricordo di come ti chiami? Sono Beppe Fiorello. No, no, no. Ma sono Kim Kardashian? No, neanche. Sono General Van Nacchi? Perché? No, non sei il Generale Van Nacchi. Almeno questo è viva. Hai perso la memoria. Tu ti chiami Gian Andrea Fantini. Ma tutti qui ti chiamano Doc Doc. Sì, chi è? No. Sei tu. Doc Doc. Avanti, chi è? Non mi sembra lucidissimo. Doc sta per tutt'ora. Eh, sì. Io sono Doc Doc. Avanti! Non sono sempre, non entrano mai. Come se avessero fretta. Insistono, insistono. Ma una volta che bussi... Bossa! L'operazione non è andata tanto bene. Devi accettare questa nuova realtà. Hai perso la memoria. Prima eri così. Un po' diverso. Ora sei così. Cosa avete fatto? In effetti. Mi avete tolto nemmeno francese. Ma non è quello il problema. Sono praticamente identi. Sì, è uguale. Sono contenta che si sia risveglionato Doc Doc. Chi è? Ma ancora chi è? Basta. Vabbè, c'è la sigla. Un anno d'Oc. Un anno d'Oc. È stato un anno. Non so se è tornato come prima. No, direi di no. Però è in ospedale, eh. Mi sa che si è bloccato l'ascensore. Direi di sì. Eh sì. Niente, rimasti chiusi dentro. Bona. Non me lo dica. Perché? Perché io soffro di cuore. Se mi viene l'ansia, riesco l'infarto. Eh, ma è normale avere l'ansia in queste situazioni? Ma non glielo direi. Una volta mio cugino è rimasto chiuso in un ascensore come questo. Sai chi l'ha tirato fuori? Chi? Pomp e fune. Ma non glielo dica. Senti, anche tu ha problemi di memoria. Non lo sai chi sono io. Leggi qua. Chi è? Io sono il primario cattivo. Io sono la coprotagonista siga. Questi cazzi. Ma cosa? C'è un medico e un ascensore? E lei? E lei l'ho riconosciuta? Lei è Doc Doc? Chi è? No, basta. Basta. Io ti avevo detto che quel coglione di Doc Doc non poteva lavorare, ma tu hai insistito e ora sta dentro l'ascensore con uno che sta infartando. No, Doc Doc è il medico più grande qui dentro. Ma non lo so. Devo incidere l'ascensore. Visturi? No. Con cosa? Con cosa incide? Sega circolare. E ce l'aveva lì, tra l'altro. Ma no, non ce n'è bisogno. Doc Doc si ricorderà benissimo che cosa fare. Lei lo ama ancora, eh. Com'è? Lui sta male, però. Posso risolvere questa situazione? Eh, sarebbe il caso. Ricordati chi eri. Eh, eh. Concentati. Eri un dottore bravo. Tu sai cosa fare. Ricordati, ricordati. Si ricorderà. Sforzati. Sai cosa fare. Eh. Lo sai? Lo sai cosa fare. Lo sai? È visto? Puglio il paziente. Che è successo? Mi sono ricordato benissimo come sia giusto un ascensore. Vabbè. Bingo. Bingo cospa. Pensa che sbatti fare su giù per i piani con le scale. Cioè, i pazienti potrebbero anche infartare. Ma questo è morto. È morto. Ma se sono guardandolo. Ma non respira. Vabbè, che non respira più, ok, ci sta. Ma come, ok, ci sta. Questa è una vera tragedia. Certo che non è una tragedia. Te l'avevo detto che questo è un coglione. Io non sono un coglione. Io sono... Doc, doc. C'è? No, mamma mia. Ancora? E questa era la prima puntata. Siamo a posto.